Non lasciarmi il sole, non so se il cuore ce la va. Sindaco per il secondo anno, si ritorna qui a Casterraimondo, allo stadio comunale, con questa bella iniziativa, il premio Ravera e il ricordo di un grande della musica quale Gianni Ravera. Sì, verissimo. Questa sera Casterraimondo penso sia al centro dell'attenzione da parte di tutta la regione Marche e sicuramente anche fuori regione. È un bel evento, è un cast, io penso così non l'abbiamo mai avuto. Io penso da nessuna parte della regione Marche c'è mai stato tutti questi personaggi così famosi del mondo della canzone, dello spettacolo. Orietta Berti da Tolentino a Casterraimondo, sempre presente al premio Ravera in più occasioni. Sì, perché l'organizza Pasquale Mammor, quindi è il mio manager. Poi devo dire che in questi ultimi anni ho sempre avuto un'occasione di promuovere la canzone dell'estate, il tormentone, quindi sono venuta anche perché è una bella promozione. E quest'anno una Vespa in due già sta riscuotendo successo e siamo solo all'inizio dell'estate? Sì, è stata un'idea di Fiorello di fare questo jingle per la sua trasmissione su Rai 2 che poi tutti la richiedevano e lui ha detto ma possiamo anche farci una canzone? Non mi ha detto niente, però a Natale quando mi ha fatto gli auguri ha detto io l'ho già scritta la canzone se la vuoi cantare. Così è stato. Alfa, per la prima volta al premio Ravera con la tua Bellissimissima, uno dei successi della scorsa estate. Eh sì, ma tra l'altro l'abbiamo anche arrangiata con la band del posto, l'abbiamo provata oggi, viene molto figa, sono contento. Come è andata l'esperienza a Sanremo? Beh è stato intenso, è stata probabilmente la settimana più intensa e anche bella della mia vita perché poi mi ha regalato molte soddisfazioni e molte poche ore di sonno. Ricordare Gianni Ravera che è un personaggio che ha dato molte chance, molte opportunità a tanti artisti, che se non ci fosse stato Gianni Ravera forse non sarebbero qua. Amore 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 Sai perché? Perché la mia testa è femmina Abbiamo scoperto il mistero del ciuffo di Malgioglio Malgioglio! Grazie, grazie Carlo, grazie a tutti Grazie a te, a tutti Vai! Tu è la postura Giorgio, bentornato dalle Marche, dicevamo ci siamo visti tanti anni fa negli anni 90 Tu hai detto bentornato ma in realtà è come se non me ne fossi mai andato Perché io, ragioni di lavoro o per altri motivi io ci sono sempre Riveremo anche a Fermo, lo spettacolo di Marco È un periodo importante e poi soprattutto c'è Carlo che forse chiama per Saremo? No, forse lo fa, forse Carlo fa Saremo, forse Anche Panariello l'ospite? No, 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 Panariello non si sa Ma è un dubbio che Carlo faccia a Saremo Non lo so, non lo so Io spero che tu possa invitare dei cantanti con dei nomi decenti Eh no, perché per dirti, io poi non ne conosco uno che resti qui Ho incontrato un ragazzino che va all'età del tuo figliolo Dice vuoi vedere un concerto? Eh bello, chi c'è? Dice c'è, come cose, bunda basse, tacacchette e tannanai Dico sei decita no? Gli ho detto perché Non sto scherzando ovviamente Però sì, è chiaro che una sera magari io e Pieraccioni gli si va a tirare un po' le orecchie Capito? Ma sono contento per lui perché alla fine Carlo dà continuità Tutto un lavoro che ha fatto benissimo a Madeus Ci fai un saluto da Mario Albagnino? Allora, vi faccio un saluto magari con una certa boldenza nei bracci di noi indifferenti Vi aspetto tutti a Fermo Lo so, partire da Fermo non è una cosa facile Però noi lo faremo Ciao Ciao Ciao